Noi mettiamo di là, vuoi stare tu? Nooo, mettiamo di là Ciao ragazzi, mettici Basta che la sposti così, esatto Senza tirare, senza fare, senza sminchiare Ancora? Aspetta, e devi, non so, devi dare Ancora un po', ancora un po' Ancora un po' di E basta Ciao amici miei Allora, dov'è la parte che non dà fastidio? Allora Solo che mi giochi sono Qui e qui Ciao amici, adesso lascio un po' Il video, ma magari dopo Lo togliamo se dà fastidio Allora, sono il grandissimo Zaniboy, ciao Zaniboy Sono il grandissimo Bragali Ciao Bragali Ok Allora ragazzi, io vi svederò È arrivato un nuovo andiamo al negozio io lo voglio ma che cazzo è questo? adesso vedi ma che cazzo stai a dire ma che cazzo stai a dire il gioco ce l'abbiamo già stupidone stupidone allora io volevo scartare le buste giusto? questa qui non è mica questa che ci aveva dato ieri? si facciamo mille caspita io direi si facciamo? lo fai tu? ok ok facciamo una roba velocina facciamo un paio di partitozze bellissimo tra l'altro facciamo un pacco a testa e vedi che non si vede l'ultima allora una cosa veloce trono xandex nobile samurai velo mambele drago drago tutti i draghi ok vai dai qualcosa di bello facciamo 5 io 5 3 se no poi ci dobbiamo passare giù ok tutti i smerdotze ma comunque le smerdotze vanno anche bene ragazzi mediatore vento strega anatema rivoluzione io guardo anche le foto perché mi piacciono un casino cavalieri spazaccino livello oh ma questo sti cazzi eh armato oscuro diciamo due ricordati quando abbiamo la quinta di farti passare a te eh ciao ragazzi di twitch amici come state amici e amiche mie ok vat volpe artista amico ma come mai lampeggia vabbè oltre bungini drago uh che bello sto drago mi piace spazaccino a due li abbiamo l'acqua peraltro due draghi uguali bene 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 si può vendere poi si può così dice no a vendere scomporre no scomporre scomporre aah che pochia di curo due 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 sì super rara super rara grazie grazie dignità rocciosa la magia bombardamento prominence strega strega artigiana modulazione horus guardalo qua bellissimo drago anche questo è fico eh anche se è normale si lampo vai l'ultima mia vuoi che leggo io o lì di tu leggo io veloce si ok fai sbustare prima farle vedere tutte ciao ragazzi benvenuti stiamo sbustando le carte degli stagi oh 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 allora rinascita nano leggi pensieri saga spazaccino ce l'avevamo ancora abbiamo trovato doppio velo lampo colpo battente vai adesso sarà il grandissimo no Allora, vai, facciamole vedere tutte Tra l'altro c'è la mia face FA, vai, turbo ricarica Reticuliano, bellissimo tra l'altro Invocatore Tridente Spadaccino 5 di sti cazzi di spadaccini Speriamo sia forte, vai Rituale Rituale Colpo, due rituali nello stesso coso Che sfida, vai Chiude, vai sull'altro Andiamo al settimo busta Speriamo che ci portate Fortuna, amici di Twitch È una live veloce, eh Numero 4 Lampo, questo mi sono davvero già visto Nex, Genex Questo è bellissimo, eh È un robot con un manufiorellino Mari principessa Spadaccino Questo mi sono davvero già Tra l'altro due in una mano sola Fancuro Rogo Drago Questo è bellissimo Non mi sembra di averlo visto Allora ragazzi Yu-Gi-Oh! è scaricabile Gratuitamente da tutte le console, eh E si può giocare anche Tra Playstation, Xbox e PC Giusto? Sì, cross platform Cross platform Gear Fieryand Trasportatore Shabola Mi piace Shabola sembra un po' Come si chiama quel Wolverine? Alena Alena Nera Colpo Drago Arrumato Questo l'abbiamo già 5-6 Spadaccino l'abbiamo una trentina Drago Arrumato Noi abbiamo quello di livello 6 Ah, feco Dove è livello 7? Sì, infatti Livello 5 Ah, e dove è quello stato? Poi metti se può evolvere Dici? Perfetto Eh? Fico Fico figata Scrivetemi nei commenti Se si sente bene l'audio, eh Mech Non l'hai fatto finire Valkyria Infernobili Sincro Dai Tattino Dai Tattino Cavaliere Vai, vai Membele Spadaccino Fulmine Ok L'ultimo, eh Dai, speriamo bene Speriamo bene Allora Uh, grande Zanè Bella Dermatteo No, Dermattero Trappolatrice Anche inventando tutti i sinonimi Ragazzi, penso che sia stata dura Salamagna Element Sciabbola Armato scuro Questo è fico Questo è fico Drago Livello 3 Termo col tavolino Membele Ok Ok Spadaccino silente Super rara Stica Io direi Eh Ho trovato una busta Hai visto? Le prossime dieci ci daranno Una cosa Super rara Per forza Perché ci ha dato un po' Una merdazza Vabbè Andiamoci C'era scritto C'era proprio garantita Eh Mi garantita Dai, guardiamo Già ho visto il pacchetto Qua è ora Però ho visto in fondo Il pacchetto già Tutto in casa Ok Ok Allora Sierico Cyber lady Ninja Drago Blitz Livello Velo Ma la super rara non ce l'ha fatto vedere Drago fantasma Occhi diversi Cazzarola Guarda quanti occhi Spettacolo Un occhio luto Bello 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 Mi chiedo un botto Allora ragazzi Questo gioco bisogna Poi alla fine Fare il vostro match Con chiesti di più Con le carte Anche se prendete Uh Bello Due Due nascoste Dovi farle vedere Eh Perché togli La cosa del bello Cancello Tre volte Nobile Metal Fosi Possiamo anche Non leggere Però Fagli vedere La busta Capito Combattente Colossale Assalto Colossale Assalto Minchia Un sciambico Che bello Lampo Di drago Armato Mago Silente Ah Non può essere Evocata Normalmente Deve essere Evocata Specialmente Offrendo un tributo Ah ok Beh Queste sono quelle forti Ma tutte Mi sale Super rara Un'altra rara Però non c'è ancora Dato l'ultra rara No è un'altra No ma dico L'ultra rara Non c'è ancora Dato No è un po' Un'altra rara Eh però Ci stanno un sacco Di super rara Ancora Il schiaccietto Quando sta uscendo Lascia la faglia Qui fuori Che fa un zampino E no Vai 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 Sì Sì Guerriero Qui Metalfosi Bello Mambele Questo ce l'abbiamo già Mambele Colpo di tuono Ragormato Lampo Vai 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 Ok Oh Bello Lancianiera Valtiria Scusate raga Cosmo Gradius Questo mi sembra D'averlo già visto O no Non ce l'avevamo No 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 È nuova Robo Vai Drago Drago Armato Palo Eh Sì 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 Vai Magia Velo bianco E questa è la finita Eh Solo due nuove Vai solo sulle nuove Vabbè C'è la quale L'avventatore Profumo Profumo Alba Palange E Mago Sidente Otto Sì Otto Minchia Minchia Signor Sidente Super rara Eccola Ultra rara Dentro una cazzo Vai 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 Favamo vedere F Sì Sì Sei Samurai Leggendario Bello Celeste Kaiser Bello 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 L'ultima Drago Armato Nivello Sette Ma io questi draghi qua Armati Diciamo di avere Le portazioni Che ne sono Gattolati Magari fanno L'inveglio Sì 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 Grande Zane Buccio il culo Allora Bambola Guardiano Catena Demoniaca Spettacolo Materiatore Gigarda Mamma Spettacolare Vai Con l'ottava Non sbaglio L'ultima Ho visto Che era Ancora Un'altra Due altre ore Ci da Minchia Che buccio di culo Super rara Beh ragà Ma che le super rara Non sono male Signore scuro Nasten Bello 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 Alza Sincro Cavaliere Bokbar Sì Sì Guardiamo l'altro Che così giochiamo Un po' No Dobbiamo gustare Una cosa Che chiuscima Però Un po' Un po' Due super rare E manca un pacchetto Qua ce l'abbiamo già però Può vedere Il cuore Drago armato Il drago armatura Non c'è scritto Giù 2 ultra rare In un pacco Ho visto Spadaccino Silenzio Livello 7 Nibong Uomo Mago silenzio Spadaccino silenzio Livello 7 Sti cazzi 7 Però questo livello 8 Ma anche c'era Effettivamente Sti cazzi Pronto Hai trovato una busta di carte Nella prossima C'erano 87 ultra rare No vedi che è giallo Invece quello che ci dava Era Un altro colore Viola Vai vai Andiamo fa Una partita Una partita Ma le tue missioni All'ordine Ficcate Ma perché dice È arrivato un nuovo Structure deck Ce l'abbiamo Forza perché Non l'ho ancora Ficcate Ma che c'era Questa di Il carto di 54 Ecco Quella M Quanto ci dai Un bel 200 Dobbiamo arrivare al rango silver Per prendere la cornice silver Andiamo qua la gente Andiamo a farci smazzolare un po' Però l'abbiamo anche vinto Vediamo quale mazzo Possiamo mettere Il mago del tendolo Ma vediamo se possiamo Cambiare qualche carta 40 più 5 Non se ne possono mettere di più? Sì Eh Aggiungiamo Scusa Allora Non puoi farlo da lì? Sì posso Ok Modifica Così E possiamo mettere tutte le carte Che vogliamo Vai Tuo il deck Tuo il deck Allora Su perrare Devi bisogna per forza Come si dice Amazzarne altre Per mettere dentro No Non è capito Quello che intendo Cioè Io se metto Su perrare Lo devo per forza Sai quando le metti giù E ti spariscono Su perrare Sono tutte così Ah no È in base a quante carte ha I quali Tipo C'è una carta super lana Le puoi mettere due Se hai due Le puoi mettere il campo Ah Questo mi piaceva un vuoto Vedi tipo Quella la normale Ne hai tre Che puoi mettere Tutti tre Quale? Uno in bagno E uno in bagno Questo? Ecco questo Questo Lo vedi che ne hai scomponibili tre Quelli lì sono Tutti la cosa Ma che cosa fa? Abbiamo magie Sì Sono quelle verdi Le magie sono tutte quelle verdi Le trappole quelle viola I uomini Mi dice Quando sono finito il mazzo Eh lì Il numero di carte 43 Altre 7 pazze E l'hai finito Qua c'è tutte le storie Il cineseo E c'è l'extra deck E il massimo 20 parte L'extra deck Sì Quello là Dovevo mettere Su perrare Che devi dire Delle carte E come si fa Mandarle lì? Per me Mi prenderebbe Quelle carte Che c'erano Tipo da unire Il link Oppure da Contora Il top numero Di post Oppure anche Il payment Sì Abbiamo un attimo Poi massimo C'ereo Deve cambiare Sì. Sì, ti puoi rispettare il posto. Eh. Eh, trova a fissarla, guarda l'ora. Ecco l'ora. Ah. Non è che l'ora d'ex perché l'hiamo trovato, eh? Cioè non, perché oltre ora ce l'hai anche nel mid-tech. Però è perché, infatti, si può dire da Link oppure da due tappe comunicati. E anche foto di un pistella, quindi. Ok, capito. Vedo qualcosa che non era dei mostri, dei draghi. Cosa vuoi mettere? Trappola? Eh. Eh, trappoli sono quelle viola. Eh. Sto leggendo un po' di... velocemente. Guarda che è attaccata e viene evocata. Puoi evocare tramite fusione un mostro fusione. Dici che è comodo? Sì. 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 Andiamo, da. Ma se lo mancano? Ma se lo mancano? Ma se lo... Ma se lo... questo distrugge una carta del tuo nemico. Eh, questi che non hanno attacco bisogna leggere che cosa fanno perché... eh. Gli artigli. Veloce e letale dotato di artigli. Guarda. Ah, sai quella qua? Aspetta. Vai... Parti dall'alto e conta fino a 4 verso destra. Qua? Cioè fino a 5 adesso. Qui? Quella carta. Eh? Questa qua la puoi usare? Sì. Per niente. Cioè non so che cosa fa. Lo rimuoviamola. 0,0. Perché io me lo sto tenendo. Eh, farà qualcosa. Sicuro. Io ho le carte che potenziano le altre carte, quindi ogni volta potenzio a 200. c'è il tuo. Bene. Vedi? Questa, metti due segnalini che non so come fa su questa carta, questa carta non viene distrutta in seguito a una battaglia. Sì, sì. Segnalini per metterla solo i cateni. Sì, sì. Segnalini per metterla solo i cateni. Sì, sì. Sì. Grazie a tutti. Ok, 50. Dai, ci siamo, ci siamo. Salva Eshi. Spero di non aver fatto un bordello. Vai, andiamo col duelle? Dai, vieni. Eh, ce la vuole a noi. Tu sei, inizia. Ok. Duel. Allora... si valore p vieni qua amore vieni qua no devi venire qui vieni qui valore p 22 44 questo qui qui e poi se metti l'osco ma lo mettiamo adesso questo no questo è tira fuori due mostri dal pendolo magro scoperti nei tuoi deck alla torna effettivale un pendolo incredibile per turno non è meglio aspettare vado non vuoi giocare tu dai una partita ma poi faccio io una una cosa e vado su far cry se non riesco a finirlo più con il gioco la ecco quelle che fanno così che insomma sono carte che fanno così oppure il cena dei segnalini e devo capire ancora un sacco di roba e raga perché è posto su gioco veramente per dire che la buttate si è buttata la sua carta devo che era qualcosa una cosa da zero però non so cosa ci metterà ci metterà o beh sono la sua magia normale il gioco la carta è una tua ah ti fa vedere che carte ho questo caso non mi potrebbe aver visto questa carta percela percela a noi va o nel Ah, ok, ok. Ok, oh bello! Uh! Fa mettere nel Google, però meglio non farlo. No? Qua è 2.000... Attacchi? Quindi dai... Qua andiamo a 3.100, quello lì è 2.500. Eh, perché a volte... A parte che poi avrà delle... No, devi fare con l'altro, era 1.800. No, ma è 0. Ma è 0, l'attacco. Eh, buona vita perché... Per... per l'attacco. Sì, sì, sì. Allora... Non vuoi mettere quella la? Vuoi pulare quella la carta? Questa? 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 No? Quante devi togliere? Di questo. No, per invocare quella la, quante carte servo? Una o due? Aspetta, vogliamo... No, il ciucco lì, il ciucchettino. No. Uno o più, uno, cosa c'è per l'Italia? No. Due mila non è l'attacco, è la difesa? Attacco. Eh? Attacco. È 0 difesa? Sì. Però si attacco, quindi prendiamo 2-5 di danno e la carta nostra si distrugge. No. Qua 0 difesa, lo distrugiamo con un colpo. Qua o si deve di�asciare o sicuramente. No, mi scherzo insieme con le due lì con l'altro lo faceva dire non è conviene che non se non ce li distrugge io se alla pari la potenza ci distruggono entrambe le cose però è morto è una carta forte che si rimane una carta non l'abbiamo dato grazie non sta passando tempo no? non lo so, però io è il nostro, questo è il duel è incredibile, durano un botto le partite, 4 e 4, cazzo questa volta, adesso gli da, bisogna ammazzare quella dietro, 5 e 5, quello ha fatto qua, quale cazzo, questo qua cazzo, questo qua cazzo, questo qua cazzo, e vedi cosa fanno, ma ha avuto anche di 1.900, sì, vabbè, ma che padre, gioca cazzo, sto passando di 400 secondi, eh, 469 come tutti, ma come noi, è quello, è quello, 400 secondi, è il nostro, eh, e ce l'ha anche lui uguale, parte da 469 tutte le volte, e ha 400 secondi per finire, non so quanto gli manca, cioè quanto, quanto ha fatto, sai, che cazzo attacca, dove attacca? me,çu uccide, ma quasi nonHHHH, sei più che il tanti, la sede возьmo, allora dietro? ho, ah quello, ecco qua dicemina, in regia, ma qui cazzo, è quasi comunque, due, è un attore fino a兩個 tre Lucchia, la madonna va cosa fa questo qua ha tutto un masso così ma va 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 ancora finito ancora una persona che aveva 100 di vita aveva la fredda tipo 3500 5 la connessione e poi io sono riuscito a potenziare tanti sono una carta è arrivata a 10 mila di potenza ora ancora ancora come mai come mai ha potuto fare battaglia anche nel secondo no era già fase 2 lui va bene ma farà un sì assolutamente sì sarà un cazzone di quelli che si è fatto un bel deck allora solo ci facciamo quella a parte che sono le 10 e mezza però ci facciamo una partita la di solo facciamo il duello e poi andiamo col deck in prestito tutte le due si non voglio dire quella parola però c'è la disciplina dell'area è proprio un pezzo di rifatto allora metti il palazzo del signore elementale vedete la carta verde qui si aumenta la potenza di un signore elementale in base all'elemento del luce tipo se metti luce con allora vedi l'immagine del tuo nemico no? se metti quella carta con potenza di luce e divinità lui arriva a un botto di nudo guarda vedi quando vai in fase 2 non puoi attaccare no perché quello lì mi sape era rimasto in battle e quelle carte si possono spostare si? ah ah infatti non la via si fa alcune ma dietro si può spostare non si vuole 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 spostare ok ok la carta no io non voglio per forza è questo adesso faccio la 2003 porca proia bello guarda luce si e come lo potenzia c'è eletto dalle ESCAL in teoria vai dove c'è quello del vaso prendi una carta e allora ecco metti luce 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 guarda potenza il suo ruolo metti di divinità perché è in base al quale il signore viene imparato lui è luce di divinità invece come un altro tipo la di prima che era tutto con le spiame di mettere fuoco e luce ah ok capito questo concetto che mi ha allora questa che cos'è inizio del tuo moffage ballici tre carte scoperte caldo del tuo ex desk scoperte persa una carta questo è attivato quello posso fare puoi prendere un timore e attivare il potere e poi interno e poi mi devi dare una mano non mi stai aiutando guarda adesso sono tutti merdosi pieno di aiuto amore mio due tre ok me l'ho messa una dentro però faccio questo attivo questo bella devo ancora capire bene come fanno tutte le cose raga che già le ore sa già ne vuole sa io invece devo un po' ancora scoprire un po' come la barra ok obiettivo obiettivo è solo un video no ora gli elementi sciabola proteggono i tempi e pellegrini non visitano più giorno dopo giorno controlla gli elementi che compongono il mondo assicurarsi che nessuno prenda il sopravento sugli altri iniziando che l'elemento che l'elemento fuoco diventi troppo predominante in tal caso gli elementi sciabola accrescerebbero il potere dell'elemento acqua potrebbe pioverebbe ovunque e la pioggia spegnerebbe le fiamme quando l'elemento diventa incontrollabile a forza dell'elemento opposto viene aumentata fino a ripristinare l'equilibrio ci saranno i quattro elementi gli elementi sciabola hanno evitato solo una frazione dell'autorità dei signori elementari e non ne possiedono tutto il potere per questo non può portarli a credere di essere degli dei possono però usare il loro potere per controllare addestrare e fare del bene gli elementi sciabola non smettono mai di imparare ok completato una busta di carte infatti nei prossimi livelli che puoi riscattare quelle monetine gialle che sono proprio l'argate ok le gialle bisogna aspettare quindi cosa mi ha fatto? mi ha dato altre missioni da fare dopo? si è passato quello la a voi e domani questa? man mano che si va avanti poi io posso sbloccare per andare di là poi facciamo il finale facciamo tutto domani è tardino adesso allora ragazzi io vi ricordo di seguire il canale di Marco Drums Games su youtube, facebook, twitter, instagram, tiktok, twitch di darmi una mano a crescere quindi invitare i vostri amici a farmi pubblicità vi ringrazio tantissimo e mi raccomando di seguirmi su youtube ah guarda specchio del signor adorato è bello no si è una rappresentazione nostra ok 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 si va bene no mi piace quella la allora di seguirmi su youtube e twitch mi raccomando di mettermi un mi piace commentate e attivate la campanella così sapete sempre quando siamo in live ciao zane boy grazie mille ciao a tutti da Marco Drums mitici a domani altre live mitiche ciao ciao a tutti grazie mille ciao iscrans you